Avrei stretto di nuovo fra le mie mani quel diamante Ero disposta a tutto per ritrovare qualcuno che mi aiutasse Da quel giorno in poi cominciò la mia vendetta C'è stato un omicidio Ok, arrivo subito Troverò questo fotografo Lei è la seconda vittima? Fai venire anche le altre ragazze Sempre ci siano ancora vive Ho in una lista delle ultime persone che l'hanno vista vivo Buongiorno ragazze Sono gli attacchi di sassi Abbiamo un problema Lei è l'ultima persona ad averla vista vivo Lavoro da sola Non è che sia uno dei miei momenti migliori Ci sono novità su cosa sia successo a Nicole Finiamola qui E lui mi ha chiesto di sposarmi Non essere così comprensiva con me Morta da star per lei 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 Grazie a tutti